Ciao a tutti, sono sempre io, Mr Zexo. In questa puntata vi farò vedere la schiusa dell'uovo di Larvesta. Nella scorsa puntata ho fatto vedere dove si trovava e in questa è la schiusa. Vado sul ponte Freccia Luce, dove è molto lungo ed è conveniente per fare la schiusa di uovi o altre cose. Andremo avanti, correremo, faremo avanti e indietro finché non ci sarà la schiusa. Intanto vi dirò la novità, tipo che nella mia squadra toglierò King Clank e metterò Larvesta appunto che salirà di livello fino a che non arriverà a livelli alti come 70-80, quindi evolvendosi in Volcarona e mettendolo poi nella mia squadra. Quindi ci sarà un nuovo elemento nella mia squadra. Intanto se i miei video vi piacciono ricordatevi sempre di iscrivervi, mettere anche i commenti in caso, che io continuerò a fare nuovi video di che parlano di cose diverse. Abbiamo fatto un giro a piedi, adesso lo faremo in bici e vedremo un po' se si schiuderà presto. Sono facendo salire di molti miei livelli, il livello della mia squadra. Sono saliti molto i Dragon, tipo che era a livello 80, che adesso è arrivato all'85, Samuroth che era al 72 e ecco che si sta evolvendo e che si sta schiudendo l'uovo. Con due giri sono bastati per farlo schiudere. Ed ecco l'arvesta. Buono, niente male. Adesso lo farò allenare fino a che non diventerà un Pokémon, finché non diventerà Volcarona a livelli alti. Allora, adesso vi farò vedere comunque le statistiche, perché è tanto vero in squadra. Allora, guardiamole, così le vedrò anch'io. Vabbè, è a livello 1, questo lo si sa. Tutto 6, equilibrato, un IPS a 12. Tutto equilibrato con il corpo di fuoco, che è una buona abilità. Poi adesso tutto equilibrato. Ok, per questa puntata è tutto. C'è stata la scusa di l'arvesta e ci vediamo la prossima. E ricordatevi di iscrivere. Ciao!